Ciao, sono Simona Nava, sono una ginecologa e ho avuto il grande onore di partecipare come relatrice al convegno Dalla Cellula alla Longevità, organizzato l'8 settembre del 2022 qui a Bologna. È stato davvero magico e molto emozionante, intanto per la qualità di tutte relazioni e poi perché ho potuto portare anche la mia esperienza di ginecologa e grande appassionato di epigenetica abbinato alla nascita. Nascita che oggi comporta proprio il voler tutelare il bambino che nasce da inquinanti ambientali come la plastica, metalli tossici, in cui la placenta fa davvero da barriera. Oggi ho proprio voluto parlare dell'importanza della placenta, che è un organo magico, un organo che tendenzialmente viene buttato via e che invece ha bisogno di una sua dignità e in realtà vorrei e ho lanciato un messaggio sull'importanza di tutelare durante il parto proprio l'attaccamento del bambino alla sua placenta per il maggior tempo possibile. Cioè il fatto di promuovere e dobbiamo davvero impegnarci tutti noi professionisti della nascita a divulgare il fatto di promuovere il clampaggio ritardato del corbone embilicale perché nel sangue cordonale ci sono degli elementi come le cellule staminali che sono davvero molto molto importanti per la salute del bambino nei primi mesi ma quelle cellule staminali gli renderanno una maggior longevità in salute per tutto il resto della vita.